Ben trovati in un appuntamento con l'ospite, il protagonista di questa puntata è l'onorevole Calogio Romanino, che intanto ringrazio per aver accettato l'invito. L'onorevole Romanino non ha bisogno di presentazioni, più volte ministro, parlamentare di lungo corso, un figlio della città di Sciacca, che è partito da Sciacca perché la passione per la politica è nata in questi anni, negli anni della gioventù, del liceo, poi proseguita chiaramente all'università. Le chiedo intanto come è avvenuto questo approccio con la politica. La vita in fondo è fatta di circostanze, no? Qual è stata la circostanza, il fatto che poi ha determinato questa carriera? Le circostanze sono esterne, ogni scelta nella vita è condizionata dalla circostanza, ma dipende dalla propria vocazione. Quindi già da bambino ogni persona sceglie quello che vuole fare. Uno dei giochi dei bambini è proprio quello della scelta di cosa faranno da grande. Molti bambini, siccome hanno un rapporto ravvicinato col medico, rispondono sempre voglio fare il medico o dicono sempre voglio fare il medico. Io per tante ragioni, comprese l'educazione familiare, la vita familiare, proprio da bambino ho incominciato a interessarmi di politica. Ci interessarti di politica sì. Nel 1946 in Italia si svolse il referendum monarchia-repubblica. Io avevo meno di sette anni e io tifavo repubblica. Perché tifavano repubblica mia madre e mio padre. Quindi ecco, ci sono poi questi elementi della vita che condizionano la tua formazione, condizionano la tua vocazione. C'è anche qualcosa proprio di interno che si viene svolgendo. Durante gli anni scolastici, il ginnasio e il liceo, avendo avuto la fortuna di frequentare il ginnasio e il liceo, nel tempo in cui ancora l'ordinamento di quell'indirizzo scolastico era quello gentiliano. Quindi si studiava. Quando io ho sostenuto gli esami di maturità classica, si presentavano i programmi di tutti e tre anni di liceo. Quindi si studiava. Si studiava molto. Qualcuno diceva si studia come Shakespeare e Scobboni, ma si studiava. E questi studi contemperavano un incrocio, per esempio, delle materie letterarie. Quando uno affronta le materie letterarie con una qualche curiosità o qualche passione, incomincia a chiedersi le ragioni del collegamento tra quello che il poeta e lo scrittore ti rappresenta, parlo addirittura dei poeti e degli scrittori greci e latini, poi di quelli italiani, e le cose della vita. Le cose della vita sono la politica. Platone dice cos'è la politica? La politica è svolgere pienamente, compiutamente, le funzioni che la vita ti riserva. Ma in questa riserva della vita c'è la tua scelta. Ecco, ho chiuso il cerchio. Consapevole. C'è la tua vocazione. La vita le ha riservato tanto. Incarichi di ministro, di sottosegretario, tanti anni in Parlamento. Che cosa ricorda di quegli anni? Adesso è passato un po' di tempo da quando lei ha poi deciso di abbandonare la politica attiva, non la politica, perché la politica la si continua a fare, no? No. In modo diverso. Sono interessato alla curiosità, inevitabile. Sono fuori dalla politica, perché la mia esperienza si chiude con il ciclo storico della cosiddetta Prima Repubblica e della democrazia cristiana. La domanda ha una risposta corposa, mi rendo conto, molto complessa. Io guardo dall'altezza dei miei 80 anni, anzi delle quattro ventine, con serenità la mia vita. Poteva essere anche migliore, poteva non incontrare le prove che invece le circostanze, nel caso, nel destino, le circostanze mi hanno buttato addosso. E non sono circostanze sostenute facilmente, perché non si è chiuso il ciclo dell'esperienza politica per tornarsene serenamente a vivere la priorità. Io sono stato costretto per 25-26 anni ad affrontare giudizi e giudizi penali. Quindi ogni valutazione che faccio con me stesso, dalla mia vita politica, non può non partire da questo esito. Perché questi processi che mi sono stati intentati, avendo una ragione politica, un carattere politico, collegato a che cosa? Al mutamento di scenario nell'Italia del 92. Che cosa ha rappresentato la democrazia cristiana per la crescita dell'Italia per l'Italia? Che cosa ha in quegli anni? La democrazia cristiana innanzitutto è il frutto di un'esperienza lunga, travagliata, quella dei cattolici che non partecipano all'unità d'Italia. Non bisognerebbe mai dimenticarlo, perché l'unità d'Italia si forma anche con un problema molto delicato e molto complesso. Roma. Roma è la capitale dello Stato Pontificio. Il Papa è un Papa Re. L'unità d'Italia si fa con il sacrificio dello Stato Pontificio. Pio IX si chiude, è il pontefice che subisce Portapia, cioè l'arrivo dei bersaglieri. Si chiude nelle mura leonine vaticane e rifiuta tutta l'esperienza non soltanto della formazione unitaria d'Italia, ma l'esperienza di quella corrente che caratterizzerà tutto l'Ottocento, che è l'esperienza per comodità, definibile con la parola liberale. L'Ottocento è il secolo che scopre la libertà. L'Ottocento ha un capitolo iniziale, si chiama Rivoluzione Francese. Anche la Rivoluzione Francese non vede la Chiesa Cattolica se non come o vittima o bersaglio e comunque non partecipa ai moti che portano alla Rivoluzione Francese. È importante dunque partire dal contesto storico per poi arrivare a comprendere pienamente le ragioni per le quali si sono determinate certe forze politiche, che poi sono riuscite ad andare avanti per molto tempo, non il partito che si consuma nell'arco di un decennio, come magari avviene anche ora o anche meno. Sì, ecco, con la guerra mondiale, la prima guerra mondiale, in Italia si pone questo problema, la integrazione, l'inclusione dei cattolici nella vita politica. La scelta di entrare in guerra per completare il processo di formazione unitaria dell'Italia, Trento e Trieste, impegna la società. E la risposta da parte della società italiana è una risposta positiva. Vorrei che si ricordasse che nella prima guerra mondiale il contributo di vita e di sangue è stato elevatissimo. Poi la gran parte dei caduti in guerra erano siciliani, sardi, calabresi e pugliesi. Però la risposta ci fu. E ci fu perché da una parte i cattolici, dall'altra parte i socialisti, che si erano andati costituendo in partito a partire dal 1892, non si tirarono indietro, espressero una scelta di solidarietà e di corresponsabilità. Alla fine della guerra mondiale però si presentarono tutti i problemi, a partire da tutti i reduci. Ma si presentò i problemi della grande trasformazione che l'Italia subiva dopo una guerra di questa. Un paese da ricostruire. Ora, proprio al limite della conclusione della guerra, nel 1919, la guerra è già conclusa al limite, nel senso che ancora c'è aperta la questione del trattato di pace, che poi il trattato di Versailles sarà un po' non del tutto favorevole all'Italia, al punto tale che diventerà una delle cause della crisi politica del periodo successivo. e subito dopo la prima guerra mondiale, i cattolici, quelli guidati da Luigi Sturzo, espressero la scelta per la formazione di un partito popolare. Un partito in cui c'erano i cattolici, non tutti i cattolici, quindi non era il partito dei cattolici, dei, quindi tutti, ma un partito di cattolici che si misurava con i problemi di una società moderna in cui c'era stato da una parte il liberalismo e sorgeva il socialismo. Quindi il popolarismo di Sturzo nasce nel confronto con il socialismo e il liberalismo. Dopo le elezioni successive al 1919, anno di fondazione del Partito Popolare, quindi nel 1921 e poi nel 1923, la maggioranza in Parlamento sarebbe stata dei socialisti e dei popolari. Però questo incontro non fu possibile perché la Chiesa Cattolica manteneva il papato, manteneva una posizione di grande perplessità anche di fronte al socialismo. Tra l'altro vorrei che si ricordasse che il socialismo ha una storia travagliata in Italia, come in Germania, come in Francia. Però la crisi del socialismo italiano sarà una crisi anche drammatica perché porterà l'accessione dei socialisti al congresso di ritorno con i comunisti. In quel quadro non fu possibile realizzare una maggioranza in Parlamento. Residuava la classe dirigente pre-bellica prima, che veniva dalla prima della guerra, Giolitti, il cosiddetto ministro della malavita dalla definizione di Gaetano Salvemini. E in questo frangente così travagliato venne fuori Mussolini, che era stato sino a quel tempo un socialista attivo, anzi era il direttore della rivista. Era il direttore dell'Avanti, quindi era il direttore del quotidiano socialista. Questa esperienza dei popolari arriverò affermatosi il fascismo nella debolezza, ripeto, e dei socialisti, e degli stessi popolari che erano condizionati dagli interessi della Chiesa. Quando il cardinale segretario di Stato, Gasparri, fece presente che si offriva l'opportunità di fare la pace con lo Stato unitario italiano trattati lateranensi, e il Partito Popolare fu sacrificato. De Gasparri andò addirittura in carcere, è divertente l'episodio della carcerazione di De Gasparri, no? Perché fa capire anche come nella storia poi... Corsi e ricorsi storici. E ci sono cose che si ripetono. De Gasparri stava andando in treno a Firenze. I carabinieri e i militifascisti fermarono De Gasparri accusandolo di volere emigrare senza autorizzazione, ma De Gasparri stava andando a Firenze e lo portarono in carcere. Per il Papa fu una cosa un tantino difficile, riuscirono a negoziare la scarcerazione di De Gasparri, però di fatto fu carcerato, perché De Gasparri andò a finire nella Biblioteca Vaticana e per vent'anni fu chiuso dentro la Biblioteca Vaticana. Il Partito Popolare si sciolse, Sturzo addirittura fu mandato prima in Inghilterra, poi più lontano possibile, in America. Quindi l'esperienza dei cattolici che formavano, di cattolici che formavano un proprio partito, si esaurì. C'è fu il fascismo. Il fascismo chiude il suo ciclo con l'esito della guerra mondiale, cioè con la sconfitta dell'Italia, c'è un'Italia da rifare. E chi può rifare l'Italia? Chi ha mantenuto una posizione politica di netta distinzione rispetto al fascismo. Quindi la democrazia cristiana... Nasce la democrazia cristiana. La democrazia cristiana è la versione nuova, De Gasperi decide di non chiamare questo partito, Sturzo è ancora in America, di non chiamarlo Partito Popolare, proprio per rappresentare uno stacco. Una discontinuità. Però la denominazione democrazia cristiana c'era già stata negli ultimi dieci anni dell'Ottocento, perché un prete, un altro prete, Romolo Murri, aveva elaborato una linea di dottrida, di pensiero politico, ma anche di organizzazione chiamata democrazia cristiana. Una linea che non ebbe il consenso del mondo cattolico, perché in quel momento nel mondo cattolico si misurava con un problema. Ecco, lo studio della letteratura italiana, il passaggio da Manzoni a Fogazzaro. Fogazzaro è uno che simpatizza col modernismo, ma Manzoni non ha simpatizzato dopo col modernismo, perché aveva già simpatizzato con il liberalismo. Manzoni ha una formazione anche molto francese e il cattolicesimo francese si è sempre distinto per questa capacità di coniugarsi con la modernità. Voglio arrivare agli anni saltiamo la ricostruzione e l'Italia. Voglio arrivare a capire come però un partito che ha questo contesto storico alle spalle e che ha lavorato assieme agli altri partiti per ricostruire l'Italia, poi c'è stato il boom economico e tutto, cade esclusivamente per i colpi di Tangentopoli o si autodistrugge anche per responsabilità propria a suo avviso. Allora qua il primo discorso che si deve fare è Tangentopoli Tangentopoli e mafiopoli perché i processi in corso per la strage di Capace o per la strage di Borsellino sono processi che ancora non hanno dato un esito finale. Purtroppo la storia quella che poi si deve ricostruire chiede tempi che a volte non sono brevi. Tangentopoli che cosa denota che l'Italia che si era arricchita gli anni Ottanta sono l'Italia del boom l'Italia della ricchezza gli anni settanta sono stati anni difficili perché sono stati gli anni della contestazione sono stati gli anni del terrorismo ma sono stati gli anni della prima grande crisi del sistema economico mondiale nel quale l'Italia era parte rappresentata da due avvenimenti il cambio della parità del dollaro del 1971 e purtroppo dopo il cambio del prezzo del petrolio tutta l'industria chimica italiana e non soltanto quella italiana che la francese quella stessa della Germania è andata in crisi una parte dell'apparato produttivo italiano è entrato in crisi qua indico un problema che c'era e che c'è il petrolio a basso costo ha permesso l'industrializzazione dell'Italia successivamente al 46 48 gli anni del boom economico negli anni 50 e i primi anni 60 l'Italia cresceva al ritmo cinese del 10 del 12% in quegli anni vorrei ricordare che nel 1978 nel 1958 quindi a 12 anni 13 anni dalla conclusione della guerra il governo Fanfani fece il bilancio in pareggio adesso abbiamo un deficit e un debito conseguenziale che è una montagna che non finisce dicono che deriva da quegli anni però questo debito da quella politica e quella è una valutazione molto comoda perché sto spiegando dove nasce quando cambia le ragioni cambiano le ragioni del costo del petrolio e del rapporto dollaro lira dollaro marco tedesco l'Italia entra in una condizione di sofferenza una parte del suo apparato produttivo è messa sotto stress gli operai giustamente con le lotte sociali e le lotte sindacali chiedono di più lo Stato risolve il problema anche indebitandosi quindi si forma la prima base del debito pubblico però questa valutazione io non faccio polemiche come io sto facendo un ragionamento e vorrei ascoltare il ragionamento critico è in contrasto quella parte di debito pubblico si fa perché l'Italia degli anni 70 deve affrontare problemi sociali drammatici ne indico solo due la casa alla Fiat ci sono 300-350 mila operai solo a Torino sono gli anni in cui si fa un grande programma di case popolari anche a Sciac andiamo a guardare adesso i villaggi di case popolari sono stati assorbiti dallo sviluppo di un contesto generale urbanistico però si fanno grandi investimenti per le case popolari si fanno grandi investimenti nel sistema previdenziale e nel sistema sanitario sino al 1976 c'è un sistema sanitario e previdenziale frammentato per categorie la cassa mutua coltivatori diretti la cassa mutua artigiani l'Inam per gli operai si fa un sistema sanitario nazionale tutto questo ha un costo si forma una base di debito pubblico però tutto il debito pubblico che l'Italia con la ricostruzione con il suo sviluppo ha consegnato nel 92 è un debito pubblico che oggi è stato raddoppiato ed oltre gli italiani sono presi soltanto da alcuni aspetti della polemica politica ma basterebbe guardare il bilancio di quest'anno il bilancio dello Stato italiano per vedere che è un bilancio che si fa in deficit dicevamo di tangentopoli degli anni 90 anni drammatici a livello nazionale tangentopoli a livello siciliano ancora più gravi la stagione delle stragi i processi e tutto che cosa è successo allora chiedo in generale la democrazia cristiana poi andiamo a cosa è successo a Caloggio Romannino senza raccontare romanzi andiamo ai fatti quali sono accaduti l'Italia nel 1992 era la quarta potenza industriale del mondo la quarta l'Italia era dietro la Germania gli Stati Uniti Russia Germania Italia la Francia era dietro evidentemente la crescita dell'Italia è un tassello nel processo dell'economia mondiale che soffre di due limitazioni la prima limitazione è che gli Stati Uniti d'America ritengono che l'Italia debba essere sempre l'anello debole del sistema Europa Trump parla ancora oggi dice l'Italia deve uscire dall'euro dall'Unione Europea cioè l'Italia deve andare incontro a che cosa a diventare un piccolo satellite di chi perché nel 46 gli americani aiutarono l'Italia oggi non sarebbero in condizione neanche loro di aiutare anche loro hanno conosciuto la crisi anche loro hanno un debito pubblico che non finisce mai solo che il loro debito pubblico viene comprato dai cinesi nell'immediato questo non è un problema nel lungo termine la Cina diventerà chi è padrone del tuo debito alla fine ti presenta il conto e allora nell'Italia del 92 sorgevano contemporaneamente alcuni problemi che si intrecciavano gli Stati Uniti d'America non accettavano che con la caduta del muro di Berlino si formasse l'unità tedesca infatti nel primo momento anche il governo Andreotti non era stato favorevole alla rionificazione della Germania Andreotti aveva dichiarato di Germania ne preferisco due invece che una invece la storia aveva preso il suo passo la Germania aveva un governo di un grande leader Helmut Kohl la Germania è riuscita a riunificarsi la Germania ha voluto offrire all'Europa soprattutto all'Italia e alla Francia una garanzia e la garanzia si chiamava l'Euro però l'Euro ha la condizione che l'Italia ripartisse l'Italia che difficoltà aveva nel 92 non quella soltanto del debito pubblico è che il sistema industriale italiano cominciava ad avvertire tutti i segni di crisi che hanno in questi giorni il loro compimento finale l'Italia nel 92 è uscita dalla chimica c'è stato il problema di Enemonte che non è soltanto il problema di Tangentopoli è il problema della fine della chimica perché la chimica primaria non può che essere fatta a bocca del prezzo di petrolio nel 92 l'Italia non ha energia per mantenere un rapporto corretto costi ricavi per i prodotti industriali i francesi si sono fatti le centrali atomiche l'Italia che era partita prima con le centrali atomiche nel 1987 si ferma ora questa energia da qualche parte si deve produrre l'esperienza ci sta dimostrando che forse ancora forse nel senso che comunque ha un limite fisico si può fare ricorso ad energie alternative ma un apparato industriale non ha bisogno di corrente elettrica che va e viene e l'apparato industriale italiano si serve dell'energia prodotta dai francesi con le centrali atomiche dislocate dietro le Alpi gli italiani col proprio referendum dell'87 hanno detto no alle centrali atomiche i francesi sono andati a farle dietro il Monte Bianco quindi lei dice è stato un sistema che è esploso è stato il sistema mondiale che è esploso dentro questo sistema mondiale quando l'Italia la democrazia cristiana non si discosta dalla linea dei tedeschi e degli stessi francesi in Germania c'era Colle in Francia c'era Mitterand un altro uomo politico importante l'Italia che è stata protagonista dell'avvio del processo di unificazione dell'Europa si colloca in quel seno e quel seno va incontro ai problemi che ho già indicato lo dico per i più giovani se ce ne sono che ascoltano ma quando noi facciamo qualche discorso anche sulla politica di oggi e sulla nostra storia recente non dobbiamo dimenticare che l'Italia è uscita sconfitta militarmente nel 1945 che l'Italia per raggiungere il trattato di Parigi nel 1946 ha dovuto pagare dei prezzi io vorrei ricordare ai giovani che evidentemente possono non conoscere questo episodio se soprattutto non vanno a sfogliare i libri di storia quelli giusti e De Gasperi andò a Parigi al trattato di pace come scrive sua figlia in una condizione di grande difficoltà e debolezza personale non aveva neanche il cappotto si fece prestare il cappotto perché a Parigi c'era freddo e De Gasperi non aveva il cappotto quando parliamo allora e cominciamo a ristabilire un po' di cose De Gasperi si presentò a Parigi dicendo testualmente perché almeno questo esordio lo ricordo sento che in questa sede tutto è contro di me perché l'Italia ha perduto la guerra però l'Italia vuole la pace De Gasperi era entrato nel salone del Trianonne nessuno lo aveva salutato soltanto Hackeson che era il ministro degli esteri americani gli aveva dato la mano così con due o tre dita quando De Gasperi finì di parlare il rappresentante degli Stati Uniti Dean Hackeson si alzò in piedi e andò a bracciare De Gasperi ci fu quello è il momento in cui si fa la pace in Italia mi faccio capire ma la pace in Italia si fa con le condizioni del vincitore adesso un minutino e quindi mi faccio capire tutto quello che è successo negli anni 90 e anche perché l'Italia forse stava assumendo un ruolo troppo cambiato l'equilibrio internazionale cambia l'equilibrio internazionale dentro quell'equilibrio internazionale e quell'equilibrio mondiale c'è un ruolo proprio dell'Italia è il ruolo che il governo della democrazia cristiana ha fatto crescere e il ruolo di un paese nel 1946 l'Italia era non soltanto distrutta ma al più era un paese agricolo di un'agricoltura tra l'altro non autosufficiente il fascismo aveva impostato tutta la sua politica nella direzione della politica coloniale perché riteneva e in quel tempo non era immaginabile altre cose che ci fosse la necessità di assicurare agli italiani altri sbocchi di emigrazione vorrei che non si dimenticasse o che si ricordasse meglio che a partire dalla seconda metà dell'Ottocento di emigrati italiani come i migrantes che abbiamo oggi in questo momento ce ne furono tanti per cui oggi in Argentina ci sono 25 milioni di cognomi italiani in Brasile ci sono 30 milioni di cognomi italiani negli Stati Uniti in America non si sa se ce ne sono 30 o 50 perché in America poi il cognome italiano viene deformato in alcuni casi sì allora chi si chiama pace in America diventa pace noi abbiamo i film poi la traduzione di Accusio e di Calogero Sacensi non si sa che cosa è diventata negli Stati Uniti nella migliore ipotesi Calogero è diventato Cialdi sì sì che poi è tutt'altra cosa allora torniamo a Tangentopoli mi interessa quel periodo storico sì un partito come la democrazia cristiana non aveva più legittimazione internazionale salvo il filo debole che rimaneva con la Germania l'Europa di questi anni all'interno della quale l'Italia ha cercato di resistere di rimanere perché non ci sono alternative non poteva fare per l'Italia quello che gli Stati Uniti d'America avevano fatto nel 1946 perché l'Italia aveva una dipendenza fondamentale che è la dipendenza energetica ecco bisogna che le cose si capiscano nella loro reale portata e quindi nella valenza casuale che poi hanno non avendo energia propria materie prime proprie tutta l'industria primaria crolla ma non crolla solo l'industria primaria non solo finisce la chimica finisce la siderurgia in questi giorni abbiamo il problema di Taranto aperto è l'unico stabilimento siderurgico italiano l'unico centro siderurgico di produzione su scala industriale che permette poi ad industrie metallurgiche di origine siderurgica soprattutto in Emilia Romagna in Vene in Lombardia Brescia di avere delle industrie di avanguardia perché ecco la contraddizione è che mentre tutto cambia per indebolire l'Italia in Italia ci sono delle oasi di resistenza ma sono oasi minori questo processo si conclude in questi giorni e non solo si chiuderà l'Italcidere di Taranto si è francesizzata la Fiat l'industria automobilistica italiana che è un'industria pioneristica nel mondo parte quasi contemporaneamente all'industria automobilistica americana solo che gli americani sono andati avanti i tedeschi faranno la loro Mercedes e la loro Volkswagen l'Italia aveva la Fiat la Lancia l'Alfa Romeo la Lamborghini la Bianchi ecco questo è il punto il 92 dal 92 poi sono anni tragici drammatici per la Sicilia e anche per Caloggio Romannino inizia tutto in quegli anni dobbiamo finire questo discorso comincia una storia diversa per l'Italia in cui scompaiono i partiti storici tradizionali scompare il partito socialista perché si mette sotto progetto Craxi e Craxi deve andare in esilio anche la sua salma viene tenuta in esilio e questo non è un segno di pacificazione nazionale il partito comunista non è più partito comunista diventa tante altre cose però in fondo è stato quello che più degli altri due è riuscito a ecco perché è sopravvissuto a sopravvivere perché è sopravvissuto perché il partito comunista alla soglia del 92 era un partito forte per organizzazione e struttura e presenza sul territorio politicamente debole doveva diventare il partito americano D'Alema governo D'Alema ha mandato gli aerei italiani bombardare Belgrado senza delibera né del governo né del Parlamento la democrazia cristiana non l'avrebbe mai fatto però la democrazia cristiana aveva sopportato che il nome di Cossiga diventasse scritto con la K mi sono spiegato? C'è tutto il terrorismo degli anni 70 che merita qualche spiegazione molto complessa non lancio sospetti su nessuno ma è fin troppo ovvio che il terrorismo degli anni 70 serve per indebolire l'Italia e indebolire soprattutto la democrazia cristiana il terrorismo degli anni 70 è contro la democrazia cristiana e il capitolo più importante è l'uccisione di Moro si uccide il capo della democrazia cristiana lo uccidono i terroristi ma bisogna vedere quali fili ci sono dietro il terrorismo ancora oggi nel 78 si uccide Moro nel 92 si uccide la democrazia cristiana ora io voglio tornare alla domanda ma si uccide o in parte contribuisce lei stessa la propria distruzione si uccide però poi spiegherò si uccide la democrazia cristiana cosa serve cosa è necessario per uccidere la democrazia cristiana non puoi uccidere tutti i democristiani non gli puoi far fiere a tutti la fine di Moro devi scegliere il passato presente e il presente futuro il passato presente si chiama Andreotti il presente futuro si chiama Mannino dove si colpisce Andreotti e dove si colpisce a Mannino a Palermo per colpirle a Palermo sono necessarie le stragi Cosa Nostra fa le stragi quindi Cosa Nostra diventa una protagonista una coprotagonista di un processo politico molto complesso sto cercando di sorvegliare il mio linguaggio di misurare le parole non attribuisco nient'altro sto soltanto a constatare fatti ecco mi mantengo non sul piano su un piano diverso da quello dei fatti la crisi del 92 per effetto delle stragi non porta alla fine della democrazia cristiana io mi faccio la domanda io do la risposta sì sì Tangentopoli Tangentopoli riguarda tutti i partiti politici riguarda anche il partito comunista solo che i magistrati di Milano un'indagine per sapere la valigetta piena di soldi che Raul Gardini porta a botteghe oscure da chi sia stata ritirata per il partito comunista è stato scelto un agnello sacrificale greganti ma il partito comunista non è stato toccato adesso viene Di Pietro va in televisione e dice ah che errore che abbiamo fatto perché c'erano elementi per colpire il partito comunista quindi il partito comunista è stato graziato nel 92 ci sono stati i sacrificati e i graziati ma io le richiedo ma è tutta colpa no quanto c'è di responsabilità di questo partito perché vado anche detto questo siccome io chi conosce o ricorda la storia di quegli anni sa che io all'interno della democrazia cristiana avevo una posizione ripetutamente critica e ho fatto le mie brave battaglie anche congressuali aveva capito che no avevo capito che alla democrazia cristiana si poneva un problema di grande rinnovamento e di adeguamento della sua azione politica rimanendo fermo che che è il problema del finanziamento della politica riguardava tutti i partiti riguardava tutti i partiti riguarda i partiti però le ha detto bene riguarda i partiti di oggi ma come sentivo l'esigenza di rinnovamento all'interno della democrazia cristiana perché c'era quella parte della democrazia cristiana ma c'era una democrazia cristiana c'era una democrazia cristiana che soprattutto non aveva ancora recuperato compiutamente l'esperienza politica il pensiero politico che va da Sturzo e da Gasperi l'errore fondamentale che ha fatto la democrazia cristiana nel 92 rispetto al sistema politico mondiale è quello di avere continuato a inseguire l'alleanza con il partito comunista quando non c'era più ieri sera c'è stata una bellissima trasmissione condotta da Paolo Mieli sul problema su Rai Storia sul problema dello scandalo Montedison e Paolo Mieli ha dovuto dire Paolo Mieli che in quegli anni era parte molto viva e molto attiva del giornale L'Espresso che è stato uno strumento di attacco nei confronti della democrazia cristiana e del partito socialista Paolo Mieli ha dovuto riconoscere che in effetti a Tangentopoli è finito il sistema politico non la democrazia cristiana o il partito socialista è finito il sistema politico e qui vorrei cominciare a trovare la conclusione ai partiti politici che rappresentavano ideologie le ideologie erano già tutte tramontate ai partiti politici che rappresentavano rappresentanza degli interessi faccio comprendere meglio questo concetto chi entrava in Parlamento fino al 92 guardava sinistra partito comunista tra il centro democrazia cristiana era facilmente individuabile più grande era tutto più chiaro in mezzo lo spicchio minore del partito socialista poi uno li guardava e diceva ecco là ci sono i braccianti i coltivatori diretti gli operai industriali gli avvocati i funzionari del partito comunista ripeteva questo discorso e valeva per il partito socialista valeva per la democrazia cristiana oggi ci sono partiti politici che non rappresentano più gli interessi non c'è più il mondo sociale prova di questa è la grande crisi del sindacato in questo momento la CGL ha recuperato un sindacalista di battaglia Landini ma non riesce né a recuperare rappresentanza sociale né a avere voce politica come l'ha avuta Di Vittorio come l'hanno avuto i grandi dirigenti della CGL come dentro la democrazia cristiana perché come i partiti anche i sindacati anche il mondo dentro la democrazia cristiana c'era la CISLE con Giulio Pastore con Storchi con Donna Catenne quindi noi oggi abbiamo forze politiche che sono personali Berlusconi ha fatto il suo partito 5 Stelle il partito di Grillo è il partito di un meccanismo del nostro tempo perché Berlusconi era il leader che si costruiva con le televisioni Grillo perché lasciamo stare i suoi uomini il capo è di 5 Stelle Grillo si costruisce con che cosa con la rete con il telefonino con le nuove televisioni con i nuovi mezzi di comunicazione con il nuovo sistema mediatico sono partiti privi di background di retroterra e quindi abbiamo partiti che hanno grande difficoltà a comprendere i problemi del paese mi interessa per chiudere le vicende del 92 ricostruire un po' quello che è stata la vicenda giudiziaria di Mannino durata oltre 20 anni perché tutto è partito oltre è partito dal 94 è iniziata poco prima del 92 e quindi sono 27 anni si è conclusa diciamo l'estate scorsa 27 anni prima l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa poi addirittura violenza o minaccia a corpo politico dello Stato lei avrebbe ispirato la trattativa Stato-mafia tutto questo per la paura di essere ucciso sono state accuse pesantissime per un uomo politico per un uomo io direi della Sicilia lei è intervenuto più volte direi io ho seguito quando le carte saranno posate sul tavolo si dimostrerà che sia la prima che la seconda accusa sono accuse false prive di fondamento non c'è nessun elemento per quello che riguarda il rapporto con la mafia parlano quattro sentenze di assoluzione anzi la Cassazione ha definito un processo che non si doveva fare quello contro di me nella definizione del procuratore generale chi va a leggersi poi la sentenza estesa dal relatore Canzio troverà troverà quanto serve per dimostrare che tutto quel processo era privo di fondamento anche giuridico non soltanto di fondamento di fatti il secondo è semplicemente assurdo perché perché nel 92 io già sono vittima e allora non posso influenzare niente sono vittima anche se sono membro del governo perché io sono già stato colpito nel 91 con le false dichiarazioni di Rosario Spatola un pentito che è scomparso il quale poi non si è saputo più niente qualche tempo fa si è appreso che è morto ma chi lo ha inventato Spatola come chi ha inventato Pennino che è il pentito che permetterà ai magistrati della procura del signor Caselli di fare l'ordineanza di custodia cautelare nei miei confronti e Pennino era un uomo di Ciancimino e Ciancimino doveva avere per forza qualche cosa con Mannino perché nel 1983 che aveva messo fuori dalla democrazia cristiana Ciancimino era Mannino ora io non voglio apparire un eroe della lotta alla mafia perché eroi ce ne sono solo due e non si ci metta nessuno sono diventati eroi dopo la morte in realtà Borsellino e Falcone sono diventati dopo la morte non lo erano Borsellino e Falcone hanno avuto in Mannino un punto di sostegno e di appoggio non è la mia opinione chi vuole vada a leggere l'ultimo libro di memoria di Cossiga Cossiga racconta come Falcone diventò direttore generale degli affari penali Cossiga ricorda come Falcone era stato abbandonato dalla sua parte politica e contrastato anche dalle sue correnti delle quali aveva fatto parte magistratura democratica e aria verde e ha avuto soltanto l'appoggio di chi oggi le sta rispondendo cioè del sottoscritto anche questi sono fatti non sono altre cose e allora io ho accumulato sul mio capo le avversioni di chi rappresentava poteva rappresentare il futuro della democrazia cristiana con la responsabilità di avere sostenuto Falcone questi sono fatti non si fugge da questi fatti lei ha tra l'altro conosciuto l'esperienza del carcere però a differenza di altri politici che hanno raccontato l'esperienza del carcere si sono fatti portavoce anche della situazione dei detenuti all'interno del carcere lei ha voluto tenere quasi per sé questa esperienza perché? ma è giusto che io la tenga per me mi riferivo chiaramente a Cuffaro come anche a livello altri esempi di voler portare la voce dei detenuti fuori è un'esperienza drammatica è un'esperienza drammatica che ti permette tuttavia di affrontare di conoscere il dramma degli altri perché il carcere è un luogo di sofferenza però è un'esperienza personale ed è un'esperienza che io non intendo esibire è un'esperienza sulla quale il giudizio dovrà essere dato dai fatti sentenza che mi riguardano quello è stato un carcere ingiusto come per Enzo Tortola ma non lo devo dire io io l'ho sopportato l'ho sopportato personalmente l'ha sopportato la mia famiglia mia madre c'è morta l'ha sopportato mia moglie con grande pazienza con grande energia l'ho sopportato mio figlio l'ho sopportato l'ho sopportato i miei fratelli l'ho sopportato tante persone l'abbiamo vissuto in silenzio non abbiamo bisogno di esibirlo siamo quasi in conclusione mi interessa capire che cosa ha rappresentato Sciacca per Caloggio Romannino e cosa Caloggio Romannino per Sciacca possiamo posso dire che non ci muoveva la foglia che Caloggio Romannino ma quante cose belle quante cose belle poi io guardo questi venti anni e mi viene tristezza chiudiamo questo capitolo e cosa ha rappresentato innanzitutto il proprio paese è un paese che stabilisce sempre un legame sentimentale io non ci sono nato a Sciacca c'è nata mia madre ma per me e per i miei fratelli è come se ci fossero come ci fossero nati i nostri amici i nostri compagni di scuola la nostra scuola la nostra chiesa la nostra partecipazione alla vita dell'azione cattolica è tutto qua quindi è il proprio ambiente ho valutato politicamente che Sciacca poteva essere il punto di partenza di un processo di sviluppo che in parte c'è stato vorrei ricordare che alla Chiana come la chiamano non c'era l'acqua nel 1967 oggi c'è l'acqua no oggi nel 1970 c'è stata l'acqua senza l'acqua non ci sarebbe stato lo sviluppo dell'agricoltura dall'oliveto all'agrumeto al frutteto che oggi c'è in tutta in tutta quella zona e così dall'altra parte mi sono spiegato cioè io ho cercato di fare una politica di sviluppo del paese e questo sviluppo contemplava anche una carta che Sciacca ha le sue terme ma la prego no quello non lo voglio affrontare non basterebbe un'intera trasmissione no ma per una ragione molto semplice io ho fatto la mia parte si è chiusa nel 92 dal 92 in poi io sono un osservatore che partecipa sentimentalmente soffre soprattutto soffre però non intervengo in nessuna lei parlava di quella politica di sviluppo non quelli furono gli anni del sogno di Sciacca a vocazione turistica sviluppo turistico e dell'agricoltura che ha preso un certo indirizzo anche non so limitato Sciacca ma Ribera del porto della marineria però le chiedo ma perché non si è investito proprio in quegli anni su una delle cose che doveva essere la base poi dello sviluppo del territorio le infrastrutture noi siamo l'unica provincia l'unica provincia senza autostrade lei è troppo giovane io vorrei ricordare che la Sciacca Palermo non esisteva ed è stata fatta dopo il 1970 che la strada statale 115 è ancora in piedi la vecchia strada statale 115 quindi in quegli anni sono state fatte c'è stato fatto un ammodernamento delle infrastrutture che non ha che era sempre indietro rispetto al resto del paese però no ma hanno fermato la Sicilia hanno fermato la Sicilia del 92 in Sicilia dopo il 92 dopo il governo Nicolosi e quindi dopo il ministero Mannino non ci sono opere pubbliche non ci sono opere pubbliche avevate sperperato tutto il governo non c'erano più soldi noi abbiamo dato l'acqua alla Sicilia noi significa il sottoscritto è il governo Nicolosi abbiamo fatto l'acqua alla Sicilia abbiamo fatto tutti gli ospedali nuovi abbiamo fatto tutte le scuole nuove abbiamo fatto i tre pezzi di università di Palermo Messina Catania nuovi questi sono fatti non sono chiacchiere si era incominciato a lavorare sul progetto ammodernamento delle infrastrutture stradali perfetto è rimasto fermo la Palermo Agrigento è ancora lì tra i piedi la Agrigento Caltanessetta è ancora tra i piedi e quando ho chiesto avendo incontrato per caso un dirigente dell'ANAS se stessero lavorando a quelle indicazioni che avevamo dato tra l'87 e il 92 perché la strada statale 115 diventasse autostrada quindi se ne creasse un'arteria nuova e non lo indicavamo il governo Nicolosi è il sottoscritto soltanto per interessi campanelistici no? perché un dirigente dell'ANAS mi disse era la cosa fondamentale il dirigente dell'ANAS mi disse ma sa non è perché a Sciacca c'è lei dobbiamo fare l'autostrada no voi dovete fare l'autostrada perché c'è un territorio che l'autostrada per esempio per la città di Agrigento sarebbe lo strumento risolutore di un problema che diventa sempre più drammatico difendere la Valla dei Templi significa scegliere di portare tutto il sistema stradale alle spalle di Agrigento quindi sotto Favara e sotto Raffadali e con l'autostrada noi abbiamo fatto la nostra parte se non hanno continuato lo facciano gli altri ma qual è il sogno lei come guarda la politica di oggi anche mi fermo a livello locale no no quelle sono opinioni personali e non si esercitano in pubblico ma è rimasto comunque legatissimo a questa città le esegue le vicende cittadine tra l'altro mi diceva che viene spesso Sciacca adesso forse ha ripreso un certo legame con la città adesso che è libero chiaramente da tali impegni non interferisco neppure con un'opinione io ho fatto la mia parte siamo in conclusione una città che ha tenuto sempre un forte legame con Caroggio Romanino anche lei mi diceva che lo tiene tuttora perché viene spesso le chiedo un'ultima cosa una curiosità lei era il centro della politica non solo a livello nazionale chiaramente per Sciacca era l'esponente maggiore come è vissuto poi negli anni in cui c'è stata quella trasformazione della quale abbiamo parlato tanto in questa trasmissione anche l'evoluzione di tante persone che pur facendo parte del suo progetto politico pur facendo parte della democrazia cristiana hanno fatto altre scelte addirittura sono arrivate a contestare a criticare quella politica non so preferisce non rispondere abbiamo concluso grazie per essere intervenuto in trasmissione grazie come sempre a D'Arte Redi che ci ospita e grazie a voi per averci seguito quindi appuntamento alla prossima settimana